Questa è forse la Coppa America che hai sognato, nel senso che è a casa tua. Finalmente hai girato il mondo, Australia, Nuova Zelanda, rincorrendo la Coppa America, adesso è a casa tua. Puoi dire che è come l'avevi sognato? È difficile di dire che è come sognato. Luca, ho partecipato a tutte le Coppa America dall'83 e abbiamo l'abitudine ovviamente di avere le Louis Vuitton con più barche. È vero che questa Coppa le barche hanno costato troppo e probabilmente in combinazione con l'economia, quello che era 3-4 anni fa. Tutto sommato siamo con tre sfidanti che non è quello che abbiamo sognato, però credo che sono tre sfidanti abbastanza robusti, quindi voglio dire con mezzi, sicuramente per Luna Rossa e New Zealand con abbastanza esperienza e continuità nella Coppa America. Quindi Artemis è un gradino sotto a Luna Rossa e New Zealand secondo te? Ovviamente abbiamo mostrato questo un po' purtroppo con i problemi che abbiamo avuto con la barca. È anche vero che è la prima sfida per Artemis, nonostante che molti di noi abbiamo tanta esperienza, però c'è un valore in una squadra sodato che lavora insieme per tanto tempo e credo che New Zealand è il meglio esempio di questo. Tutto ha cambiato ovviamente nella prospettiva di questa Coppa America il giorno dell'incidente di Andrew Simpson. Ci puoi raccontare che cosa è successo? Guarda Luca, non entro nei dettagli di quello che è successo perché c'è ancora un'investigazione curando sia la soccorazione sia la polizia. La polizia di San Francisco non ha ancora lasciato il loro rapporto, indagini. Quindi posso solo dire che era una tragedia sicuramente, nessuno di noi aspettava questo e in un senso nessuno di noi aspettava questo. In un altro senso sapevamo tutti che in tutte le regate di barca, anche girando il mondo, c'è il rischio e queste barche sapevamo che erano molto veloci e se uno si scoffia sono 14 metri larghe, quindi cadendo è da un'altezza importante. Puoi far capire perché Artemis non è pronta ad andare d'acqua adesso? Come mai non può partecipare a queste regate? Perché proprio l'incidente di 9 maggio ci ha preso un po' di tempo. Onestamente per due o tre settimane non è che abbiamo funzionato al massimo in altezza. Poi abbiamo dovuto riflettere un po' sul perché. Abbiamo dovuto fare altri lavori sulla barca. Oggi hai visto che la barca è praticamente insieme e stiamo facendo i test strutturali qui nella base. Poi abbiamo dovuto costruire in fretta un'alla. L'alla era in corso però era previsto di essere pronta solo in questi giorni. Tutto sommato ci mettiamo tempo e è la situazione in cui ci troviamo. Ti fa male perché tu sei challenge of record, quindi teoricamente sei nominalmente dalla parte degli sfidanti. In questi giorni hanno accusato Artemis di non essere neutral ma di essere dalla parte del defender. È una cosa che ti offende, che ti sorprende? Onestamente qualche cosa che erano detto da Max e Serena sono un po' al di là di quello che aspetto come concorrente. Erano piuttosto puntato su di me, più che Artemis credo, ma questa è una storia un po' lunga che conosci tu con Bertelli. Comunque voglio dire che l'idea che Ian Murray ha fatto con qualche regola per aiutare Oracle, specificamente, è paranoia. Non è vero per niente, lo vedo un po' di basso livello. Sorpreso, la generale percezione nel mondo è che la giuria dirà no alla richiesta di Luna Rossa e di Tim Nuzinan. Tu credi anche te, questa è la tua sensazione? Saresti sorpreso del contrario o no? Guarda, con le giurie in generale non si può sapere mai. Io ero alla riunione ieri, era una riunione molto lunga e a questo punto della mia vita, a questo punto di questa Coppa America, non rimango sorpreso di niente. Tutto è possibile. Però spero, io spero che la giuria supporta il lavoro di Ian Murray, perché credo che i punti in discussione non limitano a nessuno. Non è che la Luna Rossa e il Tim Nuzinan devono fare altri timoni o altri lavori. Loro stanno cercando di chiudere un po' le opportunità, perché vedono che Oracle può lavorarci su. Perché l'alternativa è, come sapete probabilmente voi nella media, la stampa può essere un casino con la Coast Guard e tutto quanto. Quindi aprendo quello, non lo so se ci convina per anche il team New Zealand di avere un casino a questo punto. Hai detto che l'investigazione da parte di Coast Guard e da parte delle assicurazioni è ancora in corso. Però qualcuno nel team è stato licenziato, nel tuo team già è il progettista, le responsabili della struttura. Vuol dire che almeno la vostra indagine è stata completata. Voi avete capito che cosa è successo e il licenziamento del progettista e di altre persone è stata una conseguenza di questa vostra indagine? La verità è che nessuno è stato licenziato. Questa è onestamente la verità. In tutte le fasi del team abbiamo anche lasciato Terry Hutchinson a novembre. Ci sono vari motivi in una squadra di 130 persone che le persone non funzionano bene ancora con il gruppo. E questo è stato una... questo diventa più difficile con le più difficoltà che hai. E questa per me personalmente è la mia sfida più difficile nella mia vita. È molto... è anche interessante, è frustrante, ma è anche interessante. Quindi sia con la stampa, sia con la squadra, essendo in una situazione difficile, rende il tuo lavoro molto diverso. E quindi le persone che ci mancano oggi mancano perché non funzionava più nel gruppo. Però non abbiamo licenziato nessuno. Quando hai detto pensare che Ian Murray faccia qualcosa per avvantaggiare qualcuno è paranoia. da Luna Rossa e da Team New Zealand obiettano. Ok, allora perché Oracle sta navigando da tanto tempo con dei nuovi timoni che, guarda caso, vanno bene perfettamente con le nuove regole? È una coincidenza o che cosa? Quello, Luca, dobbiamo controllare i fatti. Perché quello che ho sentito detto da Grant Simmer è che navigano con quelli timoni che sono perfettamente in regola con la Safety Recommendation dal 4 giugno. E quindi non è che navigano da prima delle Safety Recommendation. Safety Recommendation sono usciti il 22 maggio. Credo che la data che lui ha detto è di 4 giugno navigano con questa cosa. Ho sentito Max Sirena dicendo che navigano fuori regola da quanto tanto tempo, da aprile, perché non sono sicuro che questa è verità. Devi controllare. Sarebbe questa la tua prima Coppa America senza baffi? Nell'83 ce li avevi? Certo, Luca. Il baffo ha vissuto dal 79 al 2011. Non dovresti farteli ricrescere? Non sta andando benissimo. Sì, forse devo farlo ricrescere. Chi è stato? Samson era quello che hanno tagliato i capelli e le cose non sono andate bene. Io ho tagliato il baffo e non è andato tanto bene ancora, quindi maybe I should grow it. C'è ancora tempo, perché le regate importanti iniziano ad agosto. Grazie. 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 Grazie.